Ciao ragazzi bentornati e bentornati sui canali e io sono Magnus di recente Ratchet & Clank è stato reso disponibile gratuitamente su Playstation per l'iniziativa Stay at Home e oggi parliamo del nuovo gioco di Ratchet & Clank Rift Apart che uscirà l'11 di giugno probabilmente vi passate in un video come sempre con un zoom per commento un bel mi piace il primo uscì su Playstation 2 e adesso finalmente abbiamo la possibilità di poterlo provare anche su Playstation 5 precisamente l'11 di giugno uscirà naturalmente in due diverse tipi di edizioni una standard e un'altra naturalmente in Deluxe Edition ma già dalle prime immagini possiamo ritenerci molto ma molto soddisfatti è normale che un gioco che dovrebbe sfruttare al massimo la nuova console Playstation 5 anche se di recente ha subito un po' di critiche perché non si ritiene all'altezza Ratchet & Clank Rift Apart all'altezza di poter sfruttare tutte le capacità tutta la struttura della Playstation 5 eppure c'è stato naturalmente confermato che il gioco girerà in 4k sfrutterà il suono 3D tutte le varie caratteristiche del feedback tattile diciamo che ci sarà tanta roba naturalmente anche i tempi di caricamento saranno sicuramente quasi azzerati ma andiamo con ordine il prezzo è abbastanza alto perché in edizione standard lo si può acquistare a 80 euro 79,90 vabbè 80 euro però si sapeva già benissimo che i giochi per Playstation 5 subissero un aumento abbastanza notevole ma devo essere sincero la storia mi intriga tantissimo è uno sparatutto in terza persona ma questo naturalmente lo sapete meglio di me ma la caratteristica particolare è che in questa storia il dottor Nefarus inventerà un'arma che gli permetterà di viaggiare da una dimensione all'altra e quindi è proprio questo l'obiettivo della storia ossia Ratchet & Clank verranno separati e si dovranno ritrovare passando da una dimensione all'altra e già dal trailer che abbiamo visto ci saranno tantissime dimensioni con ambientazioni molto particolari armi che personalmente alcune sono una figata pazzesca altre sono molto ma molto divertente tra l'altro poi è stato introdotto anche un nuovo personaggio femminile Lombax di cui non ne hanno parlato moltissimo in pratica abbiamo visto soltanto una piccola schermata finale che compariva insieme a Clank quindi a questo punto vuol dire che i personaggi da poter utilizzare potrebbero essere tre però non si sa ancora niente perché ancora non abbiamo visto un gameplay abbastanza particolare che ci faccia capire che molto probabilmente potremmo utilizzare tutti i personaggi però quello che è certo è che ci sarà a questo punto anche un personaggio femminile del resto ultimamente si cerca tantissimo di poter rilanciare non solo personaggi maschili ma anche quelli femminili e giustamente me ne rendo conto che il pubblico della Playstation abbracciano soltanto quelli maschili ma anche quelli femminili anzi devo dire la verità molti giochi vengono apprezzati soprattutto moltissimo anche dalle donne scrivetemi sotto nei commenti di voi che cosa ne pensate se soprattutto state attendendo tanto questo gioco e se anche a voi ha impressionato a dir poco anche se devo essere sincero non è che mi sono tanto meravigliato per il semplice fatto che è un gioco che particolarmente mi è sempre molto piaciuto per cui mi aspettavo tanto e per adesso sono rimasto abbastanza soddisfatto poi è normale che quando arriverà il gioco lo proveremo e vedremo di cosa si tratta ci vediamo nel prossimo video bye